E' quello che succede ogni volta Eccoci qua, perchè dobbiamo ovviamente tornare a parlare di una delle sagre in cui si trova a servire il mio amico Ersagra Ecco qua, allora, e si conclude questa sera la ventesima edizione della sagra della Lepre D'una roba 13-22 luglio 2017 Musica, spazio, confiabili, bimbi, giochi popolari e tante altre manifestazioni per tutte le età E voglio partire ricordandovi una manifestazione molto interessante che si sta svolgendo in collaborazione con il centro studio Piero Gauli Gli artisti nel borgo presso il parchetto che va verso il centro storico di una roba vicino al bar Capriccio di Giuseppe Falconi Che salutiamo, c'è questa mostra di artigiani, artisti nel borgo Che è una bella iniziativa perchè gli artigiani espongono le proprie opere Vi consiglio di andarla a visitare, c'è stata ieri sera e questa sera a partire dalle ore 21 Per quel che rimane, questa sera al 22 luglio sabato alle ore 21 l'orchestra spettacolo Vanessa Moro Conclude le serate danzanti e alle ore 23.30 l'estrazione della lotteria di beneficenza della Lepre edizione 2017 Vi aspetto prima in taverna per degustare a partire da l'antipasto misto, i fagioli alla Lepre e poi i primi fantastici I primi pappardelle, gnocchi e polenta al sugo di Lepre rosso, al sugo di Lepre bianco di vino oppure al sugo di pomodoro semplice L'arrosto misto, tutto insieme oppure da soli da gustare, spiedini, agnello alla brace e salsiccia alla brace Con le patate fritte, le patate fritte, la cicoria, tutte le pizze Quelle prosciutto e formaggio, salsiccia e verdura, salsiccia e formaggio, prosciutto, formaggio, salsiccia e verdura Come volete voi e i fantastici dolci Panne cotte, nutelle, frutti di bosco, tozzetti con vinsanto E pizza con la nutella e poi i fantastici vini Erzagra cercherà di servirvi al meglio se sceglierete di sedervi sul suo tavolo E cosa volevo dirvi? Che siamo arrivati ai saluti Per la ventesima edizione che è andata molto bene La ventesima edizione della Sagra della Lepre ha registrato un forte afflusso di persone Ci siamo divertiti come sempre Andiamo ai saluti Salutiamo le donne degli antipasti Cito Ravisa, la nonna di Martina di cui non ricordo il nome Cito poi per i primi Celestina, Bruna, Adele, Francesca alle ordinazioni Poi passando alla Lepre, Graziana alle ordinazioni con Adriana allo smistamento della Lepre Saluto i cuocitori della carne Tra cui il professore Agostino Vitali, Marco, Silvia alle ordinazioni Sandro alla frittura delle patatine Saluto la pizza con Alessia alle ordinazioni Paola, Giorgio alla cottura e Gidio alla farcitura con Maria Rita Ci abbiamo avuto Leonora, ci abbiamo avuto la grande Roberta Che saluto grandissima Roberta da parte del direttivo Anna Maria alla Cicoria, la madre di Diego di cui non ricordo il nome I nomi sono tanti signori Ai Dolci Paola Poi andiamo al bar con Daniele, Simone, Stefano Abbiamo avuto Cristina alla Cassa Veronica, anche lì Simone Luigi, il presidente Luigi Mangini, un salutone è stato molto spesso alla Cassa Grande Stefano All'ingresso, all'accompagnamento delle persone abbiamo avuto Matteo Andrea, detto Crispino, un grandissimo saluto Fabio, detto Isomodo Laura E poi a sparecchiare il grande Roberto, detto Robertone Bruno E poi questa bellissima collaborazione Un plauso alla Taverna ed una roba Per la collaborazione con la Croce Rossa italiana Perché abbiamo avuto in queste dieci serate che sono già volate I migranti della Cristalla di Santa Restituta Due migranti per sera Sono venuti e hanno dato una mano sparecchiando Io ne ho conosciuti sei, due per sera Due diversi per sera, ne sono venuti sei in totale diversi E' stato un piacere collaborare con loro Io ci ho parlato molto perché Essendo diciamo l'unico che mastica un po' di inglese in maniera decente Ma ce ne sono anche altri Però prendevano me Ci ho dovuto parlare per le scene, per la spiegazione di cosa dovevano fare E' stata una bellissima collaborazione quella con i migranti della Cristalla Sicuramente un'esperienza positiva, un'esperienza da poter ripetere Affinché questi ragazzi facciano qualcosa e non rimangano la sera alla Cristalla a non far nulla Perché le scuole sono chiuse e loro stessi mi hanno detto l'estate Quindi adesso l'italiano non lo stanno studiando appunto perché i professori sono in vacanza Poi al bar della lepre della balera Adriano, il nonno di Martina, Francesca ai giochi confiabili Comunque il saluto generale a tutti E poi alle cape, i migliori alla fine si dice Giorgia, Palermi e soprattutto Giulia Quest'anno è riuscita a sopravvivere alle numerose assenze senza andare fuori di testa Questo è l'ottavo anno, l'ottava sacra che mi faccia di una roba Ogni anno andiamo più stretti, ci uniamo sempre di più Saluto Angelo Melari, anche io alla lepre, scusate Non stavo per dimenticare Mirko pure, Ginesio, Celestina, altre persone che ricordo solo ora Ci uniamo sempre di più, diventiamo sempre di più una grande famiglia E appunto voglio salutare anche tutti i colleghi camerieri Antonio, Michele, i più piccoli che stanno facendo esperienza Marianna, Deborah, Irene, Felice, Alessandro Adesso mi stanno venendo un po' di nome a casa Ma comunque un saluto a tutti i colleghi camerieri Ogni anno ci divertiamo sempre di più E l'appuntamento va alla ventunesima edizione Sperando che le presenze dei camerieri per la ventunesima edizione Siano più chiare per la nostra Giulia Che ha rischiato veramente di impazzire Quindi un saluto generale a tutti Per le risate che mi sono fatto Guardate, veramente Che mi faccio ogni anno ad una roba Per quanto mi diverto in questa sagra È una cosa impagabile Veramente, signori Stare sulle taverne Oltre che un'esperienza lavorativa Per le persone che si incontrano È un'esperienza di vita Quindi, signori Un saluto generale Un cappello conclusivo Sulla ventesima saga della lepre E appuntamento alla ventunesima edizione Anche con gli amici del Golosauro Andateli a trovare, mi raccomando E quindi appuntamento alla ventunesima edizione Della saga della lepre 2017 Bene, e dopo